E' stata arrestata nel pomeriggio di mercoledì da Carabinieri di Scicli una donna rumena di 31 anni e il fratello di 30 anni per furto di energia elettrica. Dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine è emesso che la donna presso la propria abitazione avesse in uso luce e diversi elettrodomestici. Tuttavia non risultava nessun allaccio regolare alla rete di distribuzione della corrente elettrica. La donna vive in casa col figlio, il quale è stato riferito in stato di libertà presso la procura dei minori di Catania. Stessa analoga situazione è stata riscontrata dai Carabinieri presso l'abitazione del fratello. Pertanto i due sono stati arrestati. Sono ora a disposizione del PM di turno. Dovranno rispondere del reato di furto aggravato.